Sono tutti lì sotto, fammi darmi un'occhiata Eh sì, tutti in quella casa, guarda E anche laggiù, anche laggiù, guarda Raga, chiude molto male per noi Molto male Si va nel muso a questi vii? Che si fa? Li facciamo sudare? Sì, c'è da saltare Ovviamente che arriva, ovviamente che arriva Salta, va di me Facciamo sudare Ah, ma io ho anche l'attacco aereo, che pollo Aspetta, mi faccio sudare Prendi questa birra Arriva, arriva Sento che è un cerchino, perché sono in strada Sì, raga, potete capire Piastre, non ce l'avevano qui Io no Che è sto bordello qui? Gas in arrivo, spostamento della zona sicura Claymore Vai, piazza Claymore subito sulla porta Piazzela Qui che c'hanno? C4 Oh, quello c'ha lancia granate C'ha il fucile con lancia granate Fucile d'assalto qui AK-50 Fucile a culatta mobile personalizzati Che c'è? AIS-50 è il cecchino L'headshot è sciotta C'era uno lì dentro, raga Ehmici, laggiù Eh, con... Ci sono le istruzioni E dove? E voi, in basso a destra Vedi scritto, che ne so Freccia, a destra, a sinistra Passa a... Ah, ok Sì, ok Cazzo, l'hai tirato fuori Oh, c'è da andare, raga Andate perdendo terreno Questa è ancora in casa, no? Non lo so, si è andato via Eh, lì, è sopra Oh, lo facciamo sudà? Pau, Dio L'elicottero anche sopra Vabbè, l'elicottero non ci dà C'è un... Oh, io sono in zona C'è un'elicottero anche qui C'è, avete le Claymore che si piazzano dentro questa casa, raga? Io la piazzo qui all'ingresso Ce l'ho io Perché? Non ti chiedo Ho visto, raga, venite tu, venite tu, venite tu Vedi tu, venite tu Non dirvi che mi ha vissuto i rilassi Arriga, figliatelo Arriga, figliatelo Arriga, figliatelo Arriga, figliatelo Arriga, figliatelo Ce l'avete una piazza? Spera Ma ti prova a prendere... No, il ricordo se lo scoppiano Andiamo avanti Dai raga, eh Io sono in zona Occhio alla porta, apri la porta che ti copro C'è gente dentro Grande, chiudi la porta? Qui c'è un... Un sistema trono, che lo prendo io Allora, voi controllate qui o controllo qua? Gente, 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 fuori da finestra Gli stanno sparando, gli stanno sparando L'ho tirato giù L'ho ammazzato Piano, piano va, piano va, piano va È morto Ho sbloccato baionetta sulla capa Ho sbloccato la capa Completate la missione Eliminate Quanti siamo? Non so, tre contro due Tre contro due Che cazzo sono? Qui, qui Fatelo su da, porco Dio La granata E si vince? Non ci credo. Eh, albertonio 94, sì! Il tornaio! Che pizzo! Ma che pizzo! Sì! Oh, la salvo, eh! La granata mi ha fatto su down, non scoppiava più, ho detto... Lasciatela anche! Io l'ho tirata, non so che era stordetto. Io però ho visto che era dentro casa, l'ho tirata la granata. Anch'io, anch'io, ho tirato la granata su lui. No, io ci ho tirato per la... boom, le sale. Stordetto, perché non c'evo altro. Epico, epico, epico. Che beccato, la stordette e poi la stuosidica. Ma cazzo è sti punteggi, come? Davvero? Sei d'uccisioni ha fatto, i hack. Dai, io... Ma mai dà di più a me? Cazzo fatti. Eh, buon punteggio, vabbè. Vabbè, io vabbè. Oh, lasciate like, vittoria epica! 8.000 punteggio. Iscrivetevi! Commentatemi! Oh, li vedete! Ho sbloccato la merda sulla cappino, la baionetta. Quanto cazzo si fa? Ho sbloccato tutto. Sì, ecco. Sì, sì, ho sbloccato tutto. Ecco. È affatto bello. Sì, ecco. Sì, ecco.